Nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, ispirato a un medioevo fantasy, è presente una classe di personaggi interpretabile da giocatori che si chiama il Chierico, ovvero un sacerdote guerriero che, vestito di ferro, non disdegna di tanto in tanto di impugnare la mazza e andare a menar colpi a destra e a sinistra contro eventuali nemici, nemici della fede. Quello del prete guerriero è un archetipo letterario ben più antico di Dungeons & Dragons. Basti pensare al Fratac di Robin Hood, ma da dove nasce questa idea di sanguinario ecclesiastico che si getta in battaglia al fianco dei guerrieri di professione? È mai esistito nella storia medievale un prete guerriero di questo genere? Ma certo che è esistito. L'esempio più celebre è quello degli ordini monastico-cavallereschi, i templari, gli ospitalieri, i teutonici, i cavalieri di San Lazzaro, i morti redivivi, protagonisti di un episodio di leggende affilate, che consiglio assolutamente di ascoltare. Questi cavalieri, gli appartenenti a questi determinati tipi di ordini monastico-cavallereschi, erano dei monaci a tutti gli effetti, perché avevano prestato voto di castità, di obbedienza, di fede, e proprio come i monaci nei monasteri, vivevano in comunità. Recitavano le preghiere durante le ore liturgiche, mangiavano in refettorio tutti assieme mentre venivano recitate le preghiere, dormivano assieme nei dormitori. Ecco, l'unica differenza è che portavano la spada sul fianco ed erano anche pronti a sguainarla, quindi a uccidere. Tuttavia, non è di loro che voglio parlare oggi, perché nel girovagare alla ricerca di documentazione per i miei romanzi, spesso mi imbatto nella realtà quotidiana della guerra medievale. Quella che coinvolge i signorotti locali, che non hanno tutte queste risorse per dare vita a grandi esterminate armate, pronte a scontrarsi alla carica come vediamo nei film, ma invece potevano disporre magari solo di poche compagini di villani infuriati, qualche manciata di cavalieri spesso spiantati, e, talvolta, perché no, anche di preti, che non vedevano l'ora di menare le mani. Ecco perché oggi racconterò tre storie di tre sanguinari uomini di chiesa. Cominciamo con lo sfatare il mito di un clero inerme, che subisce passivamente gli eventi bellicosi all'infuori delle realtà considerate erroneamente neutrali, come le chiese, i monasteri, le abbazie. Gli uomini di chiesa, spesso, provenivano da famiglie nobili, secondi, terzi, quarti, figli, e quindi finivano coinvolti negli affari dei loro parenti, nonostante la tonsura in capo. Senza contare che la loro formazione giovanile, magari, era la stessa di quella degli uomini di guerra. Insomma, prima ancora di indossare la tonaca, è probabile che quei monaci avessero passato la giovinezza a cavalcare, con la spada in pugno, ad addestrarsi con una lancia, a cacciare, e a far la guerra. Le cronache ci raccontano svariati esempi di sacerdoti guerrieri, e sembrerebbe che persino i membri più prestigiosi della chiesa, come i vescovi, fossero lieti di scendere sul campo di battaglia. Il più famoso è il vescovo di Arezzo, che nell'anno 1289 a Campaldino guidò le schiere ghibelline contro i guelfi di Firenze. Lo fece alla soglia dei 70 anni di età. Di certo non poteva regalarci chissà quale grandiosa impresa, però divenne protagonista di un momento comico involontario a causa della sua miopia. Giunto sul campo, il vescovo guerriero chiese ai suoi attendenti a quale città appartenessero quelle mura che lui vedeva in lontananza, a fatica, sfocate dalla miopia, e gli attendenti, imbarazzatissimi, gli risposero Vostra eccellenza, quelle non sono mura, quelli sono gli scudi dei nemici. Ci sono stati molti vescovi guerrieri divenuti famosi per davvero, per le loro imprese di guerra, vescovi sanguinari, ma non parlerò di nessuno di loro, perché oggi parlo della guerra, quella fatta di uomini semplici, di preti semplici, come lo era il Chierico del Castelletto di Parigi, protagonista di un episodio meraviglioso presente nella biografia di Luigi il Santo di Metà 200 e che, a quanto pare, riuscì a sgominare un assalto di Manigoldi da solo e lo fece pure in camicia. Si racconta che il re di Francia, Luigi IX, avesse invitato tutti i suoi baroni e i cavalieri a Parigi per prestare giuramento prima di partire per le crociate. Uno di questi cavalieri, in viaggio, si imbatté in un carretto che trasportava tre cadaveri. Erano i corpi di tre criminali, tre malfattori che passavano le giornate a derubare la gente. Il cavaliere, fermandosi, chiese spiegazioni, incuriosito, e gli spiegarono che questi tre criminali, nella loro ultima impresa, si erano scontrati con la persona sbagliata, un chierico bellicoso, arrabbiatissimo, armato di balestra e spada. La sera prima i tre criminali avevano accerchiato il chierico in un vicolo e lo avevano derubato di ogni suo avere, letteralmente lasciandolo in mutande. Poi si erano allontanati, tranquillamente, senza correre, perché non potevano neppure immaginare quel che sarebbe piombato loro addosso. Il chierico, infatti, appena derubato, corse a casa per armarsi. Prese la spada e la balestra e tornò sul luogo del misfatto, dove, a poca distanza, si aggiravano ancora questi tre. E quindi cominciò a rincorrerli, gridando che li avrebbe ammazzati uno per uno, se non si fossero arresi subito. Vedendolo così infuriato, i tre criminali si diedero alla fuga. Cominciarono a scappare il più lontano possibile, ma il chierico era proprio dietro di loro e non mollava. Tese la balestra, prese la mira, scoccò il dardo e la punta di ferro si conficcò proprio in mezzo alle scapole del criminale che chiudeva la fila, l'ultimo, quello rimasto indietro. La punta di ferro poi si fece largo tra la carne e raggiunse il cuore. Il malfattore stramazzò a terra, ma il chierico non era contento. Estrasse la spada e diede inizio a un inseguimento sotto la luna bella e chiara, come viene descritto nella cronaca. Raggiunse il secondo criminale all'interno di un cortile e gli mozzò una gamba con un fendente micidiale. Il terzo e ultimo criminale, terrorizzato, cercò di trovare rifugio all'interno di una casa, picchiando i pugni su un portone, ma facendo così si era appena infilato in trappola. Il chierico lo raggiunse con un altro dei suoi micidiali fendenti di spada. Gli spaccò le ossa del cranio e tutti i denti. Finita questa carneficina, poi, si andò a consegnare alle guardie. La notizia si sparse in tutta la città, fino a raggiungere le orecchie dello stesso re, il quale mandò a chiamare questo chierico. Signor chierico, a causa della tua prodezza non sarai più prete, però io ti assoldo al mio servizio e verrai con me oltre mare. Re Luigi, che ricordiamolo è un santo canonizzato dalla chiesa, e lo è ancora oggi, mise subito in chiaro le cose. Un prete non può sporcarsi le mani di sangue, però riconobbe il valore guerriero di questo uomo portentoso, e quindi gli comandò di seguirlo alle crociate, per andare a combattere gli infedeli, tutti assieme, allegramente. Questo ci aiuta a capire quanto fosse vario il mondo, quanto fosse eterogenea la società medievale, e al tempo stesso di quanto fosse falso quel mito che vuole gli uomini di chiesa impossibilitati a spillare il sangue, e quindi portatori esclusivi di armi contundenti. Spesso si dice che i chierici, i sacerdoti guerrieri, o tutti i loro simili, fossero in grado di maneggiare soltanto le mazze, proprio perché non possono spillare sangue. Beh, a quanto pare, i chierici, i preti, i sacerdoti, impugnavano le spade e spillavano anche sangue. E come se lo facevano? Nella stessa biografia compare un altro eroico prete guerriero, stavolta appartenente alla campagna militare di Terra Santa, ovvero la Settima Crociata, nell'anno 1250 circa, quando un accampamento cristiano divenne preda del tiro con l'arco di un pugno di saraceni. Pochi, a dir la verità, otto, però di alto rango, come vengono descritti nella cronaca, dei cavalieri saraceni, tanto per fare il paragone con quelli cristiani, quindi vestiti di ferro che maneggiavano benissimo i loro archi compositi e da dietro un muretto di pietre tiravano e davano fastidio. Queste frecce si conficcavano tra le tende, talvolta ammazzavano un cavallo o magari qualche cristiano. Insomma, non se ne poteva più. Quindi, riuniti in consiglio, i cavalieri che vollero liberarsi di questa seccatura decisero di uscire di nascosto di notte, attendendo quindi il tramonto, per poterli raggiungere e ucciderli tutti. Presumibilmente, visto che di giorno, una volta usciti dall'accampamento, questi saraceni rimontavano a cavallo e se ne andavano via. Ecco perché non potevano semplicemente inseguirli. Perché passavano le giornate, insomma, a raggiungere il muretto, fermarsi, tirare con l'arco e scappare non appena vedevano i cavalieri uscire dall'accampamento. Uno dei modi con cui venivano condotte le schermaglie quotidiane per infastidire questi grandi contingenti accampati. Tuttavia, un prete dell'accampamento, tale Giovanni di Voasier, non volle attendere il tramonto perché, a quanto pare, si era rotto le balle. Quindi se ne uscì da solo, armato di giubba imbottita, cappello di ferro e una lunga lancia tenuta sotto l'ascella con la punta che strusciava sul terreno, come ci viene descritto nella cronaca, e da solo, conciato a questa maniera, si avvicinò verso quel muretto dietro cui tiravano questi otto saraceni. I saraceni, inizialmente, che lo videro avvicinarsi, non fecero niente. Neppure lo attaccarono. Lo lasciarono avvicinarsi perché forse non avevano capito bene cosa stesse per accadere. Visto che il prete, a un certo punto, all'improvviso, estrasse la lancia e cominciò a correre loro incontro, gridando a squarciagola. I saraceni, dinnanzi a un simile spettacolo, si voltarono, salirono in sella e fuggirono. Quindi da solo questo prete, equipaggiato con una giubba imbottita, questo cappello di ferro e una lunga lancia, mise in fuga otto saraceni di alto rango, otto cavalieri tra i saraceni. E divenne famoso in tutto l'accampamento. Quando lui girovagava per le strade tra le tende, tutti lo additavano e dicevano guarda, quello è il prete che ha messo in fuga gli otto saraceni. Un altro esempio di sanguinario ecclesiastico medievale, stavolta un frate, ci venne restituito da Salim Benede Adam nella sua cronaca duecentesca, nel corso del racconto dell'assedio di Padova del giugno del 1256, dove divennero celebri molti gloriosi guerrieri, tra cui Fraclarello, detto il cuor di leone. Dopo aver preso con la forza la cavalla di un contadino, Fraclarello era montato in sella, aveva impugnato una pertica per far finta che fosse una lancia, e si era posto alla testa dell'intero esercito assediante, per incitarlo alla pugna. Coraggio soldati di Cristo, scuotetevi di dosso il timore. I soldati a una tale vista, invece che morire dalle risate, gli andarono dietro, cominciarono a seguirlo, e Fraclarello continuava a gridare, Coraggio soldati di Cristo, andiamo addosso, la salvezza è nelle mani di Dio, sorga il Dio. Col vessillo in pugno condusse i soldati fin sotto le mura, infuocando gli anime alla guerra e all'assedio. I difensori, da sopra le mura, che videro un tale spettacolo, colmi di terrore, e non osarono resistere. La città cadde. Nel romanzo che sto finendo di scrivere, il secondo dopo la stirpe delle ossa, anche questo ambientato in un'Italia medievale squassata da guerre e misteri soprannaturali, compare proprio un prete guerriero, come gli eroi di cui ho appena narrato le gesta, solitario, arrogante, e con una gran voglia di menare le mani. Presto ne parlerò meglio, ma nel frattempo mi raccomando, seguimi e condividi questa storia con altre appassionate genti sanguinarie, perché di leggende affilate è pieno il mondo, e non vedo l'ora di raccontare la prossima. Ciao. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache, narrati da Lorenzo Manara.